Io perdo la concentrazione circa ogni 5 minuti. Quando mi prendo una pausa da 5 minuti, la pausa di solito dura almeno il triplo. Però ci sono dei giorni in cui puoi permettertelo, altri invece dove non puoi permetterti di perdere tempo, come durante la sessione. Infatti, proprio nei giorni in cui sei nella merda, trovi le soluzioni migliori. Queste sono le mie. Molti di voi si sono stupiti quando nell'ultimo video ho detto che nei giorni pre-esame studio anche 8, 9, 10, anche 12 ore. Metto già le mani avanti precisando che non studio 8 ore tutti i giorni, anche perché altrimenti ne uscirei pazzo. Non sono un esempio da seguire, o meglio, i consigli che vi do qua su YouTube sono da seguire. Però poi io non li rispetto perché sono un pesce. Infatti sono un procrastinatore assurdo. Mi capita spesso che arrivo i giorni prima dell'esame con tantissima, ma proprio tantissima roba ancora da studiare. Ma perché noi esseri umani siamo fatti così, rispetto ad oggi. Quindi siamo sempre lì a dire, vabbè, questo lo faccio domani, domani sarò più carico, domani avrò più voglia, domani avrò meno distrazioni, domani sarò più produttivo, e altre minchiate che ci raccontiamo quando la realtà è che noi saremo noi, anche domani, con i nostri pregi e con i nostri difetti. Però, devo dire che i metodi che ho utilizzato questa sessione hanno funzionato. Il primo metodo serve per combattere le pause lunghe. Studiando 25 minuti, con poi una pausa da 5 minuti, finiva sempre che quei 5 minuti diventassero 40. Perché? Perché non ho voglia di studiare. E quindi tutto acquisisce valore. Qualsiasi minchiata, anche una mosca che vola, diventa più interessante dello studiare. Come ho risolto? Al posto di studiare 25 minuti, ne studio 50, per poi fare una pausa più lunga, che può essere da 10 o 15 minuti, in modo tale che, sì, la pausa è più lunga del solito, ma allo stesso tempo ho studiato di più. E voi direte, ma se non riesci a stare attento 5 minuti, come fai a studiarne 50? Negli anni ho capito che la vera difficoltà sono i primi 10 minuti di studio, perché non sei ancora inserito mentalmente in quello che stai leggendo. Poi, una volta che entri nello studio profondo, è molto, ma molto più difficile distrarsi. Quindi, come si fa ad evitare distrazioni? La soluzione che ha funzionato per me è stata quella di utilizzare le canzoni per concentrarmi. Quali canzoni? Sicuramente non rap o reggaeton, ma quella musica lo fai che trovate su YouTube, negli stadi with me, oppure su Spotify. Questa musica per studiare, messa in cuffia un volume medio-basso, non so perché, ma funziona. La solita raccomandazione, che però è sempre importante, è quella di disattivare le notifiche per quei 50 minuti in cui state studiando. A questo punto voi mi direte, sì, ma dopo 3 ore io mi stanco. Infatti è così, dopo tot, che varia a seconda dei giorni, ti stanchi. Quando ti stanchi, oltre alle pause che sono necessarie, la cosa che ho trovato davvero utile è cambiare il metodo di studio. Ad esempio, ho studiato il primo capitolo leggendo e sottolineando, appuntandomi i passaggi che ritengo chiave. A fine capitolo, se sono stanco e probabilmente lo sarò, studierò il secondo capitolo guardandomi la video-lezione, magari con sotto gli appunti sottolineando i passaggi più importanti. A questo punto, finito il secondo capitolo, magari inizio a fare esercizi, che a seconda dell'esame possono essere esercizi numerici oppure vecchie prove d'esame. Quindi, in poche parole, vado a studiare in modo diverso. Utilizzo parti diverse del mio cervello, facendo riposare quelle che ho utilizzato fino ad ora. Poi, ovvio che studiare 8 ore consecutive è stancante. Infatti, una buona idea potrebbe essere quella di dividere lo studio in slot da 2 ore. Detto ciò, cos'è che ti permette di studiare così tanto? Primo motivo, avere una scadenza. Quando si ha una scadenza, si cerca di arrivare preparati per quel giorno. Quindi, il poco tempo ti permette di avere quel pepe al culo che ti spinge a dare il massimo, a dare di più. Secondo motivo, che è quello più importante, è il mindset. La nostra test deve fare un ragionamento molto semplice. Qual è il mio obiettivo? Ok, fissato il mio obiettivo. Cosa devo fare per raggiungerlo? Ho capito cosa devo fare per raggiungerlo? Ok, ora lo faccio. Obiettivo, devo superare l'esame. Cosa devo fare? Devo studiare 100 pagine. Come devo farlo? Guardo com'è l'esame, guardo quello che devo studiare, guardo il metodo di studio migliore per quel determinato esame e poi lo faccio. Se mentalmente ti convinci del fatto che se voglio una cosa la ottengo, tramite costanza, sacrificio, dedizione, eccetera, 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 ma la ottengo. Una volta che nella tua testa hai già raggiunto l'obiettivo step by step, ti rimane solo che applicare quello che hai pensato. Tranne in pochi casi non mi piace la gente che pensa studio solo la metà del programma, magari becco quello, eccetera, eccetera. No, bisogna aspirare ai miliardi per poi respirare milioni. Quindi studio tutto il programma, do il massimo, magari non prenderò 30 ma prenderò 26, 28. Il vostro obiettivo deve essere sempre quello di raggiungere il massimo. È inutile che vi accontentate, perché chi si accontenta spesso rimane. Quindi il vostro obiettivo deve essere sempre quello di ottenere il massimo, perché chi pensa in grande otterrà a prescindere dei risultati migliori di chi pensa in piccolo. Uno, due, tre, prova. Comunque ragazzi, siamo arrivati alla fine del video. Visto che ho finito la sessione, aspettatevi un sacco, ma proprio un sacco di video. Dobbiamo distruggere totalmente l'algoritmo, crescere su YouTube, spaccare il mondo. Detto ciò, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, lasciatevi un mi piace, ditemi come vi sembra questo microfono, che l'ho preso da poco. E ci vediamo ad un prossimo video. Grazie. 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 Grazie.